Entro la fine dell'estate sarà rinnovato il binario della linea Barletta-Spinazzola. Gli interventi, programmati dalla rete ferroviaria italiana sino al 20 settembre, prevedono il potenziamento di rotaie e traversine massicciata dell'intera linea. Sui cantieri saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici delle ferrovie dello Stato e delle ditte appaltatrici per un impegno economico di 42 milioni di euro. Per consentire l'operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria verrà sospesa e la mobilità sarà garantita con autobus sostitutivi. Inoltre è in fase di ultimazione il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'elettrificazione della tratta Canosa-Barletta ed entro il 2023 sarà realizzata la nuova fermata dell'ospedale di Barletta. Gli interventi di elettrificazione e di ammodernamento saranno completati entro il 2025 per un costo complessivo di 145 milioni di euro.